Silvia Mcalor, Firenze è partita molto bene, poi si è un po' disunita, forse non si aspettava la reazione di Roma e ha faticato a riprendere il ritmo. Sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile perché Roma è una squadra che difende tanto e noi non siamo stati bravi ad avere pazienza. Infatti in contrattacolo siamo riusciti a provare delle azioni che avremmo dovuto sfruttare al meglio e la partita è andata così, ora quello che dobbiamo fare è risultare e prepararci per la nostra squadra, perché il campionato è ancora lungo. Il campionato che tra le altre cose era iniziato bene, tre vittorie consecutive e la dimostrazione che questa squadra c'è. Sicuramente noi siamo consapevoli di quello che possiamo fare, del potenziale che abbiamo, dobbiamo continuare a lavorare perché è soltanto così che si può arrivare nel più in alto possibile e quello che vogliamo fare noi.